Ciao, sono Nicole Garbellio, ho 19 anni, sono originaria di Torino, ma adesso vivo a Como da 3 anni. Partecipo a Miss Muretto perché mi piace un sacco Alassio. La mia cantante preferita è Lady Gaga. You know that I love you, boy, hot like Mexico, rejoice, just... Basta. Basta.